Grazie a tutti. E quindi siamo a più 2,36. Il resto degli indici a cominciare dall'Europa, questo è il DAX, siamo ancora all'interno del trading range segnalato ieri, abbiamo chiuso ancora dentro il range della candela dell'11 aumentando le rotazioni prima della uscita, lo stesso stanno facendo gli indici americani Dow Jones più 0,2 anche se manca un'ora e mezza alla chiusura. S&P più 0,10 e Nasdaq meno 0,1 quindi veramente variazioni impercettibili tutte ancora dentro i range dei giorni precedenti, compreso il Fuzzi Mib nonostante la crisi politica è un meno 0,4 quindi ha fatto un po' peggio degli altri, però tecnicamente siamo nella stessa identica situazione anche il BTP oggi meno 0,55. Non ci sono stati gli scossoni che finora almeno che si potevano ipotizzare, più che altro è salito un po' il Bund quindi lo spread è aumentato anche grazie al fatto che il Bund è andato un po' più su. Sempre le voci di piano da 2 trilioni tornando all'America hanno ridato fiato al rendimento dei decennali che però è ancora distante dai massimi toccati tre giorni fa. Questo chiaramente supporta ancora per un po' il dollaro anche se vedete fa fatica questo ora vediamo l'inverso l'euro dollaro fa fatica il dollaro a salire quindi l'euro a scendere. Oggi tutto sommato siamo ancora a chiudere in area 1,22 che per quanto mi riguarda non può ancora considerarsi completamente superata al ribasso così come l'oro oggi ha provato a rompere 1,850 durante la giornata abbattuto verso area 1,830 ma anche qui stiamo andando a chiudere di nuovo siamo ora a 1,847 quindi continua questa battaglia su questo livello di supporto importante per il dollaro. Direi tutto per gli indici perché non ci sono come vedete tutto sommato grosse novità passerei alle richieste velocemente un amico chiedeva di OVS interessante perché comunque sta performando sta costruendo un'ampia base ma non c'è ancora un breakout convincente verso l'alto per OVS nel senso che faccio notare i volumi che si sono aumentati ma questi sono i volumi che vorremmo vedere per un breakout più convincente. Comunque l'impostazione comincia a essere interessante quindi da seguire per le prossime settimane con un occhio particolare a questo livello segnato in rosso di 1,26 1,27 area che come possiamo vedere due giorni fa ha funzionato perfettamente perché i prezzi sono stati respinti quindi l'idea è che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter superare le resistenze più importanti per OVS. Altra richiesta su Azimut un discorso simile ma un po' meglio nel senso che Azimut aveva comunque superato queste resistenze molto importanti che avevano bloccato ripetutamente la salita nel corso dell'estate ha consolidato al di sopra ha tentato di rientrare e ora sta dando l'impressione di voler partire verso comunque ecco qui questo è un altro livello molto importante che dovrà essere superato ce l'hanno tanti titoli questo è il gap aperto nella giornata tra il 23 e il 24 febbraio per Azimut e area 20 fino a questo momento diciamo adesso la strada per il test di 20 è abbastanza libera fatti salvi ovviamente movimenti correttivi di breve l'impostazione anche per Azimut è di massimi crescenti e minimi crescenti quindi un'impostazione costruttiva un altro amico poi mi pone una domanda molto interessante che mi dà modo di aprire un argomento su domande molto spesso che vengono poste diceva consiglieresti uno short adesso qui siamo sul forex quindi parliamo di un cross il cross dollaro neozelandese dollaro canadese consiglieresti uno short su questo cross allora adesso non per rispondere dipende che la classica risposta ma cioè qui veramente dipende nel senso innanzitutto a che gioco stiamo giocando cioè una cosa del genere è come dire posso tirare l'asso di picche sì ma stiamo giocando a canasta stiamo giocando a burraco stiamo giocando a bridge in che contesto vogliamo ok perché allora quindi prima di tutto capire a che gioco stiamo giocando cioè questo è un sistema di una strategia stai seguendo strategie di trend following stai seguendo strategie di mean reversion cioè di ritorno verso la media perché se stiamo seguendo su che scala temporale siamo perché se stiamo seguendo strategie di trend following quindi il trend in questo momento già solo guardando massimi crescenti minimi crescenti il trend ha un'impostazione costruttiva no quindi già qui gli short non dovremmo considerarli ma e poi qua siamo su scala giornaliera perché se invece passiamo su scala 60 minuti qui siamo all'opposto qua abbiamo minimi decrescenti massimi decrescenti qui forse uno short potrebbe essere considerato in una strategia di trend following quindi prima stabilire qual è la strategia secondo in quale time frame mi trovo perché appunto il daily mi dice short no qui mi dice short forse 5 minuti mi dice di nuovo short no perché qui siamo in una situazione adesso di minimi crescenti e massimi crescenti capite cosa voglio dire quindi ringrazio l'amico perché mi ha dato l'occasione appunto di chiarire questo aspetto perché tutti quanti devono cominciare a ragionare in questi termini quindi chi fa trading anche discrezionale deve comunque avere chiara una strategia deve avere comunque avere avere chiaro in quale time frame si sta muovendo deve aver chiare delle regole deve aver chiare delle regole perché anche se non sta facendo trading automatico algoritmico si chiama comunque meccanico e sono regole che bisogna avere perché altrimenti diventa tutto molto aleatorio no e quindi poi anche difficilmente misurabile difficilmente verificabile nelle performance cioè sto seguendo un approccio che da risultati e non da risultati qual è la variabilità dei risultati che mi dà qual è il drawdown quanti quanti trade faccio positivi rispetto a quelli negativi qual è l'everage trade vincente l'everage trade dove invece c'è la perdita capite cioè sono tutta una serie di variabili che nel complesso portano poi dopo a dire sto seguendo una strategia che mi dà dei risultati accettabili oppure no ok ecco quindi ringrazio l'amico per l'occasione e vi invito nei vostri commenti appunto a scrivere se c'è qualcosa di poco chiaro in quello in quello che ha detto per il resto comunque ci aggiorniamo a domani giornata conclusiva della settimana giornata giornata importante anche se questa settimana tutta l'aria di voler essere una settimana interlocutoria non mi attendo se devo essere sincero proprio per domani dei movimenti importanti comunque saremo a vedere potrebbe essere che appunto tutto questo periodo sia un periodo di consolidamento dove il mercato in attesa di segnali prima di una prossima mossa ovviamente mi riferisco alla maggior parte degli indici che abbiamo analizzato perché abbiamo visto per il Russell è un discorso a parte va bene grazie per l'attenzione ci aggiorniamo a domani